Dario De Roit, nuovo general manager dell'Hub Pineto Volley, quest'anno ovviamente il Pineto che ha costruito una squadra molto importante e disputerà il campionato di A3 e il Girono è bianco, quindi ovviamente gli obiettivi saranno quelli di rimanere il più alto possibile con la speranza di arrivare in A2. Ripetersi è sempre complicato, soprattutto nello sport dove fortunatamente 2 più 2 non fa mai 4. E' chiaro che la società ha progetti importanti, ha progetti di A2, questo non lo nascondiamo, è stata allestita una squadra che pensiamo sia una squadra che possa comunque far bene in un girone completamente nuovo perché comunque l'anno scorso il Gione Sud ha riservato sorprese di un certo tipo, quest'anno andiamo un po' alla cieca con società che non conosciamo, una realtà diversa, trasferte forse sicuramente un po' più egevoli e comode, soprattutto in virtù del fatto che con il Covid viaggiare è sempre complicato. E' una squadra un po' diversa da quella dell'anno scorso, era una squadra l'anno scorso quella formata da tanti giovani che affrontavano per la prima volta un campionato di Serie A3, giovani che si sono comunque fatti valere e di fatti quest'anno giocano in campionati di A2 come possono essere il team Eld e Cattaneo e siamo contenti di aver fatto questo lavoro, siamo contenti per loro perché vuol dire che Pinetto Volley sta lavorando in una direzione giusta e creando atleti importanti. Abbiamo quest'anno atleti importanti, un mix giusto tra ragazzi giovani che per la prima volta si approcciano in un campionato importante e in una società strutturata in maniera importante, gli atleti un po' più vecchiotti, chiamiamoli così, che invece devono dare a noi quell'esperienza che serve a tutto il gruppo per raggiungere risultati importanti. L'allenatore è un allenatore nuovo che conosciamo, che stimiamo molto, sappiamo come lavora, è stata una scelta anche quella voluta dalla società, per cui i presupposti ci sono, è chiaro che la cosa bella di chi fa sport è che nello sport nulla è scontato, quindi dobbiamo lottare sul campo e dimostrare a tutti che comunque quello che stiamo facendo è un qualcosa che va in una direzione di programmazione a medio e lungo termine che la società sta facendo. Grazie a tutti.